Ciao, sono Sabina del concept store La Grast. Oggi ti voglio raccontare di questa idea di questo negozio nata da mio compagno Francesco e da me. Quest'idea parte dal nostro atteggiamento di vita. Siamo persone molto attente al nostro consumo, a cercare prodotti che siano più sostenibili e che abbiano meno impatto ambientale possibile e che siamo convinti che ognuno di noi possa fare la sua parte. Da qui quindi nasce questo concept, questo concept store. Il nome l'abbiamo ispirato da termine Grast, che in dialetto barese vuol dire vaso. Infatti questo negozio vuole essere una sorta di contenitore di prodotti naturali, spaziali all'abbigliamento, agli accessori, ai prodotti per il benessere della casa del corpo. Quello che noi facciamo è una ricerca molto attenta su prodotti innovativi, differenti da quelli che si possono trovare sul mercato, con un'attenzione particolare al prezzo, perché cerchiamo sempre prodotti che siano di prezzi abbordabili perché la sostenibilità deve essere a portata di tutti. Quindi se sei curiosa o curioso di scoprire di che si tratta, seguici sui nostri social e iscriviti al nostro canale YouTube perché la sostenibilità parte da ognuno di noi.